Bene, un'altra operazione che possiamo fare è quella di andare a valutare se due blocchi sono impilati, cioè sulla stessa verticale, intendo dire che possiamo pensare di programmare un predicato sopra, B1 sopra B2, che sta a significare che o B1 è immediatamente posto sopra B2, oppure B1 possiamo dire che è sopra B2, se B1 è sopra un altro blocco B, è posizionato immediatamente sopra un altro blocco B, che a sua volta, questo blocco B è sulla verticale del blocco B2. Sardiamo il buffer, compiliamo e poi, sempre sotto il trace, lanciamo il programma e andiamo a vedere se per caso succede che A, il blocco A, si trovi sulla verticale del blocco C. Allora lanciamo questo goal, che unificherà con la prima delle due clausole, che fanno parte della definizione del predicato sopra, e le due variabili che compaiono nella testa della clausola, saranno unificate con le due costanti A, rispettivamente A e C. E quindi, seguiamo passo passo con il trace, la prima cosa che dobbiamo andare a vedere, se A è, per caso, immediatamente sopra C, non è vero, quindi questo fallisce. A questo punto abbiamo la unificazione con la testa della seconda clausola, andiamo a vedere se esiste un blocco B su cui A è collocato. Questo blocco effettivamente esiste, è il blocco B minuscolo, e quindi viene lanciato il goal, sopra B minuscolo, C. E questo unifica con la prima clausola, e quindi si va a vedere se B sta su C, è effettivamente vero che B sta su C, per cui qui abbiamo la clausola vuota, vedete la faccina che ride, e adesso si fa la composizione di tutte le unificazioni che sono state fatte lungo il percorso, però il goal originario non aveva variabili, quindi è ristretta alle variabili, nel goal originario non ci sono variabili, quindi il prolog risponde true e non istanzia alcuna variabile. Forse più interessante sarebbe stato lanciare lo stesso goal con una variabile, per esempio il primo argomento, che significa voglio sapere se sopra al blocco C ci sono impilati altri blocchi. Lanciamo il goal, viene unificato subito con la prima clausola, però questa volta la variabile B1 è unificata con la variabile X, non con la costante A. E quindi il goal, il nuovo risolvente, andrà a cercare se c'è un blocco X che si trovi sopra C, immediatamente sopra. Questo blocco C è B, quindi questo succede immediatamente e viene restituita la risposta calcolata che a X fa corrispondere B, e cioè esiste un blocco che è impilato sopra C ed è il blocco B. Se poi io provo col fallimento, con il punto e virgola, e quindi forzo il backbreaking, abbiamo che l'ultima, l'unica chiamata, a questo punto va a unificare non con la prima ma con la seconda clausola, e abbiamo di nuovo che X unifica con questo B1, solo che questa volta si va a vedere se B1, che non sappiamo ancora cos'è, si trova su un altro blocco B, e questo unifica con AB, e quindi a questo punto abbiamo che qui B1 ha unificato con A e B ha unificato con B. Dopo andiamo a vedere se è vero che B si trovi sulla verticale di C, perché B2 è stato unificato con C. E quindi, prima proviamo con la prima clausola, si va a vedere se B è proprio on C. Sì, questo ha successo, quindi questo c'è la faccina che ride anche qui, c'è l'unificazione e la produzione della clausola vuota. Quindi adesso il prologue farà la composizione di tutte le sostituzioni che ha effettuato, le unificazioni che ha effettuato nel percorso, ristrette alla sola variabile che compariva nel goal originario. Nel goal originario compariva X, che era stata unificata qui con A, nel primo on, questa X aveva unificato con B1, che poi in questo on aveva unificato B1 con A, e quindi abbiamo la seconda risposta. Potremmo chiederci se ci sono altri blocchi, ma ci fermiamo qui.